Un saluto a tutti gli amici collegati, quello che vedete in grafica è il testo relativo alle avvertenze per tutti coloro i quali visitano thetradingonline.it, non facciamo gestione del pubblico risparmio, non effettuiamo servizi minori di anni 18 e tutto il materiale che vedete e leggete è a scopo didattico e formativo. Risaliamo la grafica, andiamo a recuperare il post del mese di luglio 2018 per quanto riguarda l'MVTrade, come vedete l'ultima settimana è stata particolarmente negativa, 4 sono stati i trade eseguiti, tutti e 4 in perdita, il 10 invece non abbiamo avuto nessun trade eseguito, il mese era partito con il 4 con un trade a target, così come era successo il 6 e il 5 invece un trade in stop loss, quindi il bilancio è di 7 trade in questo luglio 2018 fino a questo momento, 2 in profitto, 5 in perdita. Facciamo vedere tutto nei minimi dettagli e lo facciamo da tempo rispetto a tanti altri servizi molto celati, dove si vede veramente poco o nulla e anche i periodi negativi bisogna farli vedere, bisogna mostrarli, bisogna renderli pubblici, così come nel corso degli ultimi anni abbiamo fatto vedere tanti periodi floridi, intensi, belli, questo è un periodo nel quale stiamo soffrendo, fa parte del gioco, ricordiamoci che in questo semestre del 2018 da gennaio a giugno è stato ottenuto un ottimo 28% di profitto, quindi è fisiologico, ci sta un periodo come questo e lo dobbiamo accettare, altrimenti nessun trade in system avrebbe successo se non si accettassero i periodi negativi. Pertanto il bilancio del mese di luglio 2018 fino a questo momento, come detto, è di 7 trade, 2 in profitto, 5 in stop loss. The Trading Online a chiocciolagmail.com per ogni vostra domanda richiesta informazione, facciamo vedere tutto nel bene e nel male, perché questo vuol dire essere onesti, trasparenti nei confronti di tutti. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do ovviamente appuntamento ai prossimi video!